ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video sono andrea di e bike store brescia e oggi finalmente posso provare e toccare con mano questa nuova e bike yeti 160 e l'arma della casa americana per entrare con prepotenza nel mondo delle e bike una bicicletta unica telaio in carbonio 170 di escursione davanti 160 dietro e soprattutto un sistema innovativo unico six finiti è un sistema che sulla carta ha dato dei risultati incredibili speriamo venga poi rispettato anche nella realtà ma questo lo vedremo dopo prima di entrare nel dettaglio della nuova yeti 160 e è giusto dirvi il perché abbiamo inserito questo marchio e aggiunto ai già 18 brand presenti nel bike store brescia perché rispecchia esattamente la mission di e bike store quindi qualità e massima ricerca per assecondare i clienti e i rider i eti 160 e sarà ovviamente a disposizione di tutti voi nei nostri store presto avrete la possibilità di poterla vedere e toccare con mano nei nostri store perché arriveranno qualche unità arriverà veramente a breve e anche in questo caso ovviamente sarà possibile il noleggio a lungo termine cos'è il noleggio a lungo termine nei video che trovate il link in descrizione vedrete vi spiegheremo vi spieghiamo nel dettaglio cosa come funziona e cos'è il nostro noleggio a lungo termine quindi potete avere questa bellissima ed esclusiva bici con veramente un canone mensile decisamente più basso rispetto alla concorrenza ed avere la possibilità a fine periodo di poterla sostituire con un nuovo bici un nuovo brand o una tipologia di bici completamente diversa questo modello è la t1 il top di gamma di yeti per il 2022 e per il lancio sul mercato delle bike yeti ha scelto fox come partner per le sospensioni sull'anteriore vediamo una forcella fox 38 quindi oggi il massimo che c'è sul mercato grip 2 factory kashima e mtb taned quindi una forcella fatta per essere montata sulle bike quindi delle specifiche interne ed esterne proprio per secondare tutte le esigenze degli e bikers sull'anteriore appunto abbiamo la forcella da 170 mm 38 di diametro e col trattamento cascima il trattamento cascima è un trattamento che elimina il più possibile e rende il più scorrevole possibile lo stelo all'interno del fodero quindi ha una forcella rende la forcella molto più neutra e molto molto più fruibile e facile per tutti rimanendo sempre in tema sospensioni al posteriore abbiamo sempre fox e il nuovo ammortizzatore ad aria flotti x2 un ammortizzatore appunto ad aria con il trattamento cascima sullo stelo quindi anche qui vedete il trattamento oro sullo stelo anche qui come nella forcella abbiamo le regolazioni dell'idraulica sia nel ritorno che appunto nell'affondamento quindi nella comprensione anche qui abbiamo la possibilità di regolare le alte e le basse velocità come avrete notato balza subito all'occhio il sistema di leveraggio qui preferiamo parlarne alla fine del video per raccontarvi esattamente il funzionamento di questo leveraggio perché è veramente un'opera d'arte e è un sistema che secondo noi rivoluzionerà un po' i carri delle e bike credo che tante case dovranno rincorrere oggi questa innovazione tornando all'allestimento di questa yeti 160 e t1 abbiamo i freni code rsc sono dei freni di islam ovviamente quattro pistoncini sia sull'anteriore che sul posteriore abbiamo un manubrio in carbonio per quanto riguarda il reggisella abbiamo rock shocks axs reverb quindi senza più cavi tutto wireless molto molto bello ne parleremo in uno dei prossimi video sul funzionamento ma vi posso assicurare che è uno degli articoli più belli e più esclusivi che ci sono oggi sul mercato per quanto riguarda il cambio yeti ha scelto shimano 10 51 appunto la rapportatura 12 velocità con la corona 34 sull'anteriore in questo caso un po contro tendenza rispetto alla concorrenza yeti non è passata le batterie grosse quindi 720 700 750 come altri ma mantenuto una 6 e 30 questo perché questo il ragionamento degli ingegneri è stato che yeti deve essere la massima espressione di guida nell'enduro e bike per avere questo la 750 o la 720 in base un po ai motori e alle scelte andrebbe un po penalizzare la guida quindi andrebbe a pesantire la bicicletta e a renderla un po meno agile e un po più goffa nei movimenti a raccontarvi tutti i contenuti di questa yeti mi è venuta voglia di andare in bici ora saliamo in sella e proviamo questa nuova yeti qui nei sentieri di Iseo e speriamo di raccontarvi le mie impressioni e di farvi capire qual è il prestigio di avviare un maglietto wow è davvero incredibile ho voluto ancora un po il fiatone ma ho voluto fermarmi subito e anzi non abbiamo neanche ancora finito tutto il sentiero jumanji e devo dire che è incredibile la prima cosa che salta subito all'occhio la prima cosa che abbiamo notato è che in mezza discesa abbiamo dovuto gonfiare tantissimo la gomma dietro e anche le sospensioni che è un davvero un grande pregio perché riusciamo a dare compressioni più alto del solito il risolto vado a 17 1 e 8 qua siamo già vicini ai due e ancora ho bisogno di ancora un po più aria e questo davvero è l'esempio pratico di come funziona questo ammortizzatore posteriore è davvero incredibile la bicicletta è molto molto maneggevole divertentissima il peso di un e bike non lo senti in discesa e quello che davvero fa impressione è il posteriore io non avevo mai guidato una yeti muscolare e me ne hanno sempre parlato molto bene l'ho studiata questa bici l'ho studiata con andrea con i ragazzi tecnici e anche con fabrizio abbiamo studiato attentamente i dettagli tecnici questa bici e sulla carta erano davvero molto interessanti ma non pensavo così tanto è importante questo sistema di leveraggi posteriori davvero il retrotreno aiuta tantissimo e stiamo andando compressioni più alte del solito anche di sospensione e siamo circa sono circa 20 30 psi in più del solito e quindi circa un 10 per cento in più è davvero tanto e ovviamente questo avvantaggia davvero tanto anche soprattutto sulla gomma posteriore anche le forature andando appunto con pressioni più alte riusciamo ad avere meno effetto di movimento della gomma e magari evitare qualche foratura siamo sulla parte iniziare del plt che è un sentiero uno dei tre sentieri più importanti dell'iseo enduro area e l'abbiamo utilizzato sia per la discesa che per la salita per capire al meglio il funzionamento di questa bici devo dire che il motore shimano va interpretato e rispetto al motore bosch sembra che abbia un pochettino meno potenza ma in realtà è molto più fluido e la parte posteriore ormai abbiamo capito che è il pezzo forte di questa bici va molto bene anche in salita perché quando si va su un pezzo molto liscio diciamo quindi senza sassi senza pietro e l'ammortizzatore lavora poco quindi rimane abbastanza rigido e evita appunto il discorso la difficoltà e mettere un po' in crisi la pedalata con l'effetto bumper mentre quando prende l'ostacolo questo cinematismo fa lavorare l'ammortizzatore e quindi va a riportare l'utilizzo appunto dello stesso amortizzatore e questo aiuta poi anche nel passaggio di una pietra o così via riesce a passarla meglio per quanto riguarda la discesa su questa parte molto sconnessa con molte pietre sia pietre da scendere che anche pietre mosse devo dire che il davanti la forcella fox 38 aiuta tantissimo in quel punto qua perché ovviamente flettendo molto meno dando molta rigidità la bicicletta è molto più stabile quindi avere davanti la 38 su questa bici è molto importante e il dietro rimane ovviamente una goduria perché copia veramente tutto ancora siamo saliti di pressione con le gomme perché ancora siamo arrivati siamo sopra i due e io non ho mai guidato sopra i due e la sento sofficissima dietro quindi è davvero un punto forte questo leveraggio della ruota posteriore adesso finiamo le ultime discesa e poi andiamo in store che con i ragazzi tecnici riusciremo a spiegarvi i dettagli tecnici di questa bicicletta col funzionamento del sistema 6 in fila ciao sono andrea seguo il reparto tecnico di baxter brescia oggi parleremo del nuovo sistema di leveraggio posteriore della yeti il 6 infinity sistema di leveraggio creato ad hoc per questa bici si differenzia leggermente dal switch infinity che è il loro sistema classico di sospensione posteriore è stato creato apposta perché nella parte bassa c'è il vano motore che non esiste su una bicicletta muscolare per cui un sistema fatto ad hoc per questa bicicletta il sistema è formato da 6 fulcri su 3 diversi leveraggi un leveraggio superiore un leveraggio inferiore questi due leveraggi collegano il triangolo anteriore della bicicletta al carro posteriore e un leveraggio che troviamo sulla parte sinistra e sulla parte destra che collega i due link superiore e inferiore allora questo sistema fa sì che l'anti-rise della bicicletta cioè il punto migliore di funzionamento dell'ammortizzatore in frenata sia all'incirca il 70% il 70% è la parte più lineare dove l'ammortizzatore utilizza ancora tutta la sua escursione questo sistema dà la possibilità di avere ai valori di sag cioè un 25% un valore di anti-squat del 100% che è uno dei valori migliori di anti-squat esistenti sul mercato mentre per quanto riguarda l'anti-rise siamo all'incirca il 70% il 70% di anti-rise mantiene la geometria inalterata e migliora la frenata e il lavoro dell'ammortizzatore per cui hanno fatto credo un lavoro eccellente da questo punto di vista c'è la possibilità poi tramite questo flip chip di andare a modificare la progressività dell'ammortizzatore portandola da un 25% a un 35% adesso per esempio è in conformazione 30% che è la conformazione centrale tutto questo si traduce in termini pratici in maggior aderenza in salita minor perdita di potenza quando si va a spingere sui pedali riduzione tra virgolette drastica del consumo della batteria tutto questo in salita passaggio ovviamente degli ostacoli netto e deciso senza far saltare il retrotreno mentre in discesa al variare della velocità degli impatti e delle frenate il comportamento della sospensione sarà sempre uguale per cui non avremo una sospensione che si rigidisce non avremo una ruota che slitta fino a perdere l'aderenza una bicicletta più veloce e più sicura dopo la spiegazione di Andrea abbiamo provato a mettere in pratica tutto quello che è stato studiato sui libri ed effettivamente devo dire che è vero la cosa che ha sorpreso di più, l'abbiamo già detto ieri è stato il continuare a mettere aria sia nelle sospensioni che nella gomma posteriore perché il retroteno aiuta tanto davvero ad avere grip sia in salita che in discesa difatti abbiamo notato in alcuni punti di salita dove c'era magari un percorso di terra battuta quindi liscio che l'amorizzatore del posteriore non scendeva quindi era quasi come bloccato poi al primo ostacolo invece l'amorizzatore tornava a lavorare e questo è il vero significato appunto di Sixfinity il fatto perché abbiamo detto che gonfiare la gomma posteriore e le sospensioni è positivo prima di tutto perché ovviamente più pressione mettiamo al posteriore e evitiamo più forature e in più la guida diventa più precisa quindi è vero che più aria ci metto un pochettino perdo grip ovviamente ma questo sistema appunto avendo tanto tanto grip mi permette di andare a un po' penalizzare sulla gomma il grip per dare vantaggi su tutt'altro parlando di setup con Andrea siamo voluti partire da un setup base che utilizzo su più o meno quasi tutte le mie biciclette appunto per capire da che parte andare e quali sono i vantaggi che può dare Ieti siamo partiti da 85 PSI senza token sulla forcella anteriore e di solito preferivo anzi scendere un pochettino questa invece siamo andati dalla parte opposta lascio però Andrea la parola per spiegarvi da che parte siamo andati e fin dove siamo arrivati allora solitamente come diceva giustamente Andrea partiamo sempre da 85 PSI in relazione al suo peso e al suo stile di guida senza token in questo caso man mano che abbiamo provato la bici siamo saliti fino a 115 PSI due token e abbiamo chiuso di qualche click le compressioni sia alte velocità che basse velocità andando ad aumentare un pochino il ritorno mi sembravano all'inizio dei parametri fuori luogo in realtà poi la bici si è comportata veramente bene ci ha stupito parecchio da quel punto di vista per quanto riguarda il setup posteriore invece abbiamo lavorato ancora di più perché abbiamo stravolto ancora di più il tutto quello che ho ripetuto più volte ed è veramente la cosa che ci ha impressionato di più è che continuiamo a salire di aria sia nella gomma che nell'ammortizzatore e sicuramente il fatto che siamo saliti anche così tanto di pressione sul davanti ovviamente incide anche il posteriore perché meglio lavora il posteriore più va a incidere anche sull'anteriore anche qua siamo passati da 165 PSI che avrebbero dovuto utilizzare Andrea fino a 220 PSI aggiungendo un token e riducendo anche qua di un paio di click le compressioni la bicicletta si è comportata in maniera divina perché nonostante avessi omesso un sacco di aria continuava a lavorare l'ammortizzatore grazie al sistema 6INFINITY grazie a tutti 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 Grazie.